L'associazione Bici degli Animali Onlus e la storica gattara di Teramo, Gabriella Villanova, tornano ad occuparsi delle colonne di gatti di via della Baluardo e di via delle Recluse. Un importante passo in avanti in questa vorticosa e per certi aspetti misteriosa vicenda, anche grazie ai servizi di denuncia di Rete8 sulle sorti dei tanti gatti presenti tra le mura dell'ex ospedale psichiatrico femminile di Teramo. Nei giorni scorsi, Comune ed Università, che beneficerà della struttura una volta riqualificata grazie a un finanziamento di 35 milioni di euro, hanno finalmente aperto le porte. Nei giorni precedenti, blindate anche per non consentire di dare da mangiare ai gatti. Giornalisti, ma soprattutto animalisti provenienti da tutta Italia, hanno così potuto prendere visione della situazione, accertandosi che lì, a differenza da quanto sostenuto nei mesi scorsi, i gatti ci sono e che come colonia fellina, riconosciuta in base a una legge dello Stato, bisogna in qualche modo prendersene cura. Dopo una lunga battaglia, anche tra gli stessi animalisti, è stata individuata una soluzione non totalmente soddisfacente, ma è già un qualcosa, in attesa che partano i lavori di riqualificazione e che, preventivamente, dopo un accurato censimento e controllo sanitario, i gatti di Via del Baluardo possano essere sistemati in un sito a loro più congeniale. Tutta la vicenda, dalle sue fasi più oscure agli ultimi sviluppi, sarà raccontata questa sera, nell'ultimo appuntamento della terza stagione di Incronaca, in onda alle 22.30 su Rete8.